Allora, buon pomeriggio ragazzi, appena finita Juve Standard 10, 1-1. Molto brevemente, una partita con due Juventus praticamente, perché nel primo tempo, praticamente tutta la prima squadra, con l'aggiunta di Miretti, di Ache, una Juventus molto molto moscia, una Juventus molto sonnolenta, molto soporifera, una Juventus lenta, una Juventus brutta da vedere, non si trovava benissimo in campo, un palo a testa, uno dello Standard 10 da fuori aria, l'altro di Miretti subito dopo il gol Fantoziano, l'autogol Fantoziano di Danilo su un'uscita a farfalle di Cesni del vantaggio, un'occasione, seppur proprio non era un'occasione clamorosa anche per Ken sullo 0-0, dopo una bella azione di prima, cross di, sembra di Miretti, dopo un 1-2 con Kostic sulla sinistra. Nel secondo tempo, una Juventus diversa, una Juventus che fa nove cambi, mi sembra, una Juventus, praticamente una Juventus next gen, perché una Juventus è praticamente, ecco, una Juventus under 23, quella che gioca in Serie C praticamente tutta quanta, poi con l'aggiunta anche dei vari Uisen, insomma, è sembrata una squadra più sul pezzo. Molto, molto bene Barrenecea, che ha fatto una buona fase di interdizione, molto bene anche Sule, un pochino meno Compagnon, che, ecco, l'ho detto in Giovani Bianconeri l'altro giorno. A proposito, grazie per le tante visualizzazioni per quel video, e grazie anche ai nuovi iscritti che, insomma, ho fatto in questi giorni, ho visto 5-6 iscritti nuovi, soprattutto dopo il video di Moggio Commesso, grazie, grazie a tutti. E, ecco, dicevo che, ecco, l'ho visto, non mi sembrava tutto sto grande giocatore, sì, insomma, il suo comunque lo fa. Per quanto riguarda, invece, il collettivo della Juventus 2, chiamiamolo così, della Juventus under 23, che praticamente è scesa in campo dal 45esimo al 94esimo, una squadra che gioca, una squadra che aggredisce, una squadra abbastanza alta, una squadra sul pezzo, una squadra fatta da cagnacci, sportivamente parlando, cioè una squadra che, pure se sbaglia, e l'abbiamo visto, per esempio, con Iling, con Barbieri, con Barrineccea, che tante volte ha fatto qualche sbaglio, con Uisen, una squadra che, quando sbaglia, va subito a cercare di recuperare il pallone, va subito cattiva per cercare di riprendersi il possesso, va subito alta quando la squadra ha il possesso palla, cosa che non è successo con la Juventus 1, praticamente, quello che non è successo dal primo fino al 45esimo. Una squadra totalmente diversa, una partita che uno dice a un amichevole, sì, vabbè, il primo gol loro è arrivato su un calcio di punizione che non sta da nessuna parte, l'ha visto solo l'assistente, quel fallo, perché ha tirato il pallone addosso e cascato punizione, Cesni a farfalle, Perizza non ha toccato niente, a differenza di come dice, è stato un autogol, ripeto, abbastanza comico di Danilo. Per il resto, ecco, una Juve a due facce, meglio nel secondo tempo, più aggressiva, più cattiva, a differenza di una Juve che nel primo tempo invece giocava palla faceva melina, praticamente, nella sua area di rigore, facendo, facendo, praticamente, un po' un gioco noioso, ecco, chiamiamolo così. E va bene, questo è il quanto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!